Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono qui oggi finalmente dopo mille indecisioni prima di appunto presentarvi il pack perché se vi ricordate bene era stato pubblicato appunto qualche giorno fa era uscito sia su FS UK e Modons e poi di punto in bianco sono stati rimossi e non capivo il motivo pensavo appunto fossero conversioni scusate conversioni fossero state edit non autorizzate ma poi appunto mi sono anche scritto qualche mail con Mythos che è praticamente l'autore del ferguson del 77 26 del contest che appunto è anche diciamo il il CEO di ARM modding che purtroppo al momento ha dovuto lasciare appunto i suoi lavori per problemi personali mi sono sentito con lui ci sono scritti un pochino e purtroppo al momento non è in grado diciamo di continuare il modding comunque ha detto che appena si refa un po' ritorna allora ho deciso di presentarvi il pack perché appunto per chi magari non avesse ancora scaricato quello del contest o comunque non lo avesse ancora visto eccetera questo qui appunto è un pack completo che comprende 5 ferguson che va dalle basse potenze dal 57 12 al 77 26 che è il più grosso 260 cavalli e ci sono diciamo edit non hanno subito grosse modifiche per quanto riguarda il modello funzioni eccetera però appunto sono molto carini soprattutto questi due piccoli quello da 120 cavalli e quello da 130 questi qui che sono sono bellini sono veramente utili anche in farm come qui vedete l'ho già allestito con lo spam di concime quindi abbiamo una range di potenze che ci permette di fare tutti i lavori e appunto poi diciamocela anche tutta di ferguson per farming non ce ne sono moltissimi comunque sono delle buone edit ha fatto un buon lavoro anche se qualcosa secondo me poteva sprecarsi un po di più a farla comunque ok sono buone modi sono degne di nota e funzionano bene quindi secondo me sono da scaricare da avere comunque date un'occhiata presentazione dopo alla fine se ci arrivate alla fine deciderete se scaricarli o no comunque presentazione durerà un pochino perché voglio fare un test con ognuno di questi allora come appunto dicevo modello quelli più grossi 77 26 77 18 non variano moltissimo diciamo come chassis di macchina dal 77 26 del contest quindi diciamo sono presi praticamente sempre da questo modello qui sono costruiti appunto sulla base di questo solamente che sono stati rimpiccioliti ridimensionati risistemati comunque il setting dei pesi e tutto quanto del range di potenza si fa sentire su tutti i modelli sia su a differenza diciamo di anche 40 cavalli li sentite quindi all'occhio a usarli sempre nel nel criterio più giusto ok allora li trovate sempre scusate prima che prosegue la presentazione inoltre in descrizione vi lascerò questo caricatore frontale ferguson 94 5 che è uscito lo stesso giorno della pubblicazione della v2 però uscito diciamo alla sera praticamente un caricatore schinnato ferguson che appunto si mamma mia cominciamo questa rotella si abbina bene appunto con i nostri ferguson quindi è da avere vi lascio ovviamente il link in descrizione dicevo è un pack unico quindi lo dovete estrarre ci sono i 4 modelli 5 modelli all'interno li tirate fuori mettete sulla cartella mod solito li trovate sempre nella categoria mod sezione ovviamente trattori eccoli qua questo qua non guardatelo che fate finito di non averlo visto che è una roba mia abbiamo appunto il 57 12 che è il più piccolo da 120 cavalli il 66 13 che è il primo delle serie 6000 c'è il 66 13 da 130 66 16 a 160 poi partiamo con la serie 7000 che abbiamo il 77 18 e il 77 26 corrispettivamente ovviamente 180 e 260 cavalli qua appunto vedete il modello texture mitos script mitos barnes 777 b joxer face level bomb appunto c'è il copyright di arm e comunque sono edit permesse e autorizzate da mitos ok come funzioni all'esterno ne ve ne faccio vedere su uno che poi comunque è la stessa sono le stesse in tutti quanti voi andate qui al diciamo davanti trovate questo primo trigger eccolo qui vi avvicinate vi comparirà sulle f1 il tasto x con l'open close linkage che è praticamente potete ritrarre i bracci del sollevamento col tasto o avete l'open close bonnet che appunto vi da possibilità di aprire il cofano una cosa che non mi è tanto piaciuta è che gli interni del motore sono uguali sia sul 120 cavalli che sul 260 quindi un po' diciamo la modifica di motore o qualcosa di più grosso lo poteva fare appunto il motore del 120 non può essere lo stesso del 260 comunque ok il dirt ce l'hanno tutti quanti quindi a posto chiudiamo abbiamo un secondo trigger che è qui lateralmente sui parafanghi sono le stesse funzioni diciamo di quello del contest quindi vi rinfresco un po' la memoria per chi non l'avesse ancora visto vi avvicinate tasto x avete l'add remove mod guard che è praticamente togliete mettete il parafango sia destro che sinistro sia sinistro che destro come appunto volete voi quello qua mortacci sua perfetto ok le funzioni da fuori diciamo non sono non ce ne sono altre sono appunto solo queste due qui per il resto come appunto modello è rimasto lo stesso abbiamo la sale basculante che non ha le ruote che che fluttuano di qua e di là quindi è un buon una buona cosa anche quello comunque poi andremo a vedere in narratura basta andiamo all'interno che vi faccio vedere tutto il resto allora vi faccio vedere l'ic una volta per tutte che poi appunto sarà lo stesso per tutti quanti abbiamo l'indoor sound possibilità di aprire la porta sinistra porta destra lunotto dietro se trovo la maniglia eccola qua e poi il lunotto sopra che non me ne ero accorto l'altra volta perché sono abituato ad aprirli da qua invece c'è devo proprio fare una verticale col collo per vederlo comunque è questo qui basta per il resto i c non ce ne sono altri quindi richiudiamo vediamo tutto il mio ferito lì eccolo qua tornato su perfetto come animazione all'interno abbiamo sempre sul cruscotto la lancetta del tachimetro dei giri animata più la velocità sul display a sette segmenti animazioni di cloche acceleratore freno eccetera non c'è nulla cab suspension sit suspension quindi appunto queste cose sono queste cose qui e basta sinceramente io vi dico la mia visto che aveva preso in mano tutto quanto secondo me qualcosina qualche lavoro in più poteva farlo al posto di concentrarsi di fare 84 modelli secondo me poteva anche sprecare un po più di tempo aspettare un po a buttarli fuori e far qualcosa in più diciamo a livello di animazioni migliorare un pochino le texture all'interno che non sono mai state il forte di rm comunque ok allora in tutti quanti i trattori ci sono le doppie gomme in più nel nel 57 12 66 13 e 66 18 possibilità del console del caricatore frontale quindi lo potete mettere sui tre modelli più piccoli switchando sempre con il tasto k vedete avete il toggle front loader block quello qui ok poi col tasto n avete possibilità di cambiare le gomme vedete che adesso ho allestito queste qui strette per appunto dare fare i lavori fertilizzazione sono anche molto carini questi cerchi qui molto belli le doppie gomme all'occhio che si mettono solo se avete le trelle borgo perché se avete le altre diciamo quelle strette non vi escono quindi all'occhio permette le tasto 7 per le posteriori e tasto 4 per quelle anteriore eccolo qui queste diciamo sono le funzioni fanalleria a posto anche molto carini i fari belli lampeggianti normali non sono in 3d quindi molto semplici e ok boh perfetto lasciamo questo qua piccolino e andiamo a provare un po' questo caricatore frontale ok come sound sono tutti uguali tranne questo no qual'era? oh oddio adesso non mi ricordo scusate che mi sembra fosse stato è e questo qua è quello che ce l'ha diverso eccolo qua ci ha messo diciamo il sound del deus originale gli altri diciamo sono tutti uguali come come sound boh anche questo appunto vedete possibilità di cambiare le gomme col tasto n adesso questo marcio di caricatore boh diciamo carichiamo un po' di patate appunto come pesi eccetera sono buoni non ho trovato nessun problema ovviamente sempre zavorrandoli in un modo consono il caricatore anche qui è molto carino e qua qua c'è il rigid body delle sovrasponde dell'altro farm tech stessa rottura di scatole che era uscita sul crosetto che comunque è una cosa inevitabile comunque ok se vi ricordate c'era la mamma mia c'era la collision appunto sul sovrasponde poi vi farò anche vedere eh io non sono molto amante dei caricatori frontali se devo dirla tutta preferisco le ruspe perché appunto ha un po' più di stabilità i caricatori anche se li zavorrate sono un po' sempre ballerini se così li possiamo definire vediamo eh vi faccio vedere eccolo qua vedete il problema dei rimorchi allestiti con sponde senza sovrasponde se avete lo stesso modello potete mettere e togliere oppure potete lasciare le sponde questo qua appunto non ha possibilità di switcharlo ma c'è l'altro modello che le ha praticamente se il modello è lo stesso il rigid body delle sovrasponde resta che è questo qui comunque ok non c'entra un cazzo con quello che devo continuare a dire comunque era un'informazione che vi volevo dare ok andiamo a fare narratura tanto qua con rimorchio non ho niente da farvi vedere comunque questo è il dirt è tale e quale diciamo ha quello si ha il modello di default il 7726 quindi non ha nessuna diciamo differenza ok facciamo un po' di aratura adesso non so comunque nella realtà purtroppo qua da me Ferguson non ce ne sono molti c'è solo un 7624 di serie 7700 non ce ne sono quindi non so dirvi anche se magari si differenziano di marmitta si differenziano di sicuramente interni ovvio si differenziano perché non penso che lo stesso blocco cabina console eccetera sia uguale su tutti e cinque i modelli comunque se qualcuno li conosce è meglio di me magari mi dice era così per dire magari 77, 18, 16 o 26 cambiano cambia diciamo lo chassis della macchina ma non lo so quindi fatemi sapere buttiamo giù di prepotenza il quadrivomere ok adesso metto un po' in posto la velocità così vi faccio vedere anche un po' il basculante davanti 6 allora ragionevoli qua anzi facciamo 7 ma non va 6 ma lol da 5 a 7 ok 6 perfetto come tiro eccetera ci siamo qua vedete tutto su e giù perché appunto ho la real terrain ormai mi ci sono anche un po' affezionato visto che non ho più trovato problemi perfetto torniamo indietro ma qua arriviamo sopra al 77, 26 vediamo vediamo la ratr qua avete appunto l'asse che va come dio comanda qua qua perfetto comunque si dicevo l'asse qua è a posto si muove si muove bene molto ben fatto ok perfetto andiamo a padroneggiare col più grosso qui mettiamoci anche le doppie gomme per sport anche questo qua il rumore è un po' diverso noi erpichiamo di traverso perché ci piace di più boh eh questo qua è duro da tirare si comunque si cap suspension sit suspension funzionano bene molto gradevoli una cosa anche bella che mi è piaciuta sono le doppie differenti che sono più belle da vedere appunto che non sono le stesse trellebor ma sono altre gomme sono molto carine una prepotenza in retromarcia porca vacca flash degli specchietti è rimasto sempre lo stesso non è stato sistemato è un po' sì adesso non so se sia questione appunto perché ce ne sono tre e non riesce l'engine non riesce a caricarne tre insieme comunque non lo so non mi ricordo se appunto è questo il motivo ma può essere ormai farmi la novità ogni volta ok c'è anche la ventolina che gira del radiatore che mi ero scordato anche di farla vedere sulla presentazione mi ricordo come l'avevate fatto notare e quindi adesso ve la faccio notare io che gira anche se so che l'avete anche già visto eccola qua che gira buono torniamo di là cofano aperto così raffreddiamo tutto ottimo perfetto ragazzi io termino qui non ho altro da dire un attimo che controllo le funzioni di questo ma non c'è altro c'è le doppie basta le fine non le ha compreso anche l'altro il 26 il 18 no ok non ce l'ha c'è solo le doppie ok perfetto basta ragazzi io termino qui la presentazione spero di aver detto tutto se ho dimenticato qualcosa ovviamente fatemi sapere spero vi sia piaciuta tutte le mod appunto come vi ho detto è solo una una edit comunque questi due più piccoli diciamo servivano perché appunto come ho detto siamo anche scarsi di Ferguson però sono anche ben fatti sono discreti sono carini mi sono piaciuti sarebbe stato bene vedere una differenza anche all'interno come plancia come console e tutto comunque so che è difficile però mi accontento graficamente non pesano il pack pesa un pochino però viva dio sono 5 mod e appunto dobbiamo portare un po' pazienza bene ragazzi io vi lascio vi saluto vi ringrazio per l'attenzione vi lascio ovviamente il link in descrizione se non lo hanno tolto se magari c'è un'altra è stata un pat un'altra versione che è facile di solito quando faccio le presentazioni succede sempre così vi lascio anche quella del caricatore del ferguson 94.5 basta vi ringrazio vi saluto ci vediamo prestissimo con i prossimi video ciao ciao